Il 4 dicembre si alzerà il sipario del Teatro Sirena di Francavilla al Mare. Il nuovo cartellone, ricco e variegato, si avvale della direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti. Nove gli appuntamenti suddivisi nelle sezioni prosa e musica e con un progetto speciale. Ad aprire la stagione teatrale sarà lo spettacolo Favolosa che vedrà la protagonista Giuliana De Sio. Il 16 dicembre concerto Morricone Stories dedicato al grande compositore e ad esibirsi sarà il maestro Stefano Di Battista con il suo quartetto. Il 9 gennaio sul palco gli attori Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi con lo spettacolo Le Verdi Colline dell'Africa. Il 20 gennaio spettacolo L'ultima notte di Bonfiglio Liborio con l'attore Pino Amendola, lo scrittore Remo Rapino, l'attore Alessandro Blasioli, la partecipazione straordinaria del tenore Piero Mazzocchetti e la regia di Davide Cavuti. Pies tratta dal romanzo vincitore del premio Campiello 2020, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, scritto da Rapino, prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo. 4 febbraio, altro volto noto del mondo della televisione e del cinema, l'attore Neri Marco Re, con le mie canzoni altrui. Michel Portal, mito internazionale del jazz internazionale, tonnerà per Sotto le Stelle del Jazz Winter Edition il 17 febbraio. Remo Girone, 26 febbraio, sul palco con il Cacciatore di Nazisti. Marzo, due appuntamenti con la grande musica, il concerto di Tochigno il 10 e di Tullio d'Episcopo il 31. Progetto speciale della rassegna è Collisioni, due appuntamenti il 10 febbraio e 24 marzo a cura di Alfredo Bruno. A presentare la nuova stagione teatrale il maestro Davide Cavuti, il sindaco Luisa Russo e l'assessore alla cultura Cristina Rapino. Una stagione per tutti i gusti e spero che il pubblico recepisca questa nostra offerta. Mi auguro veramente che ci siano tanti giovani a teatro. Partiamo il 4 dicembre con Giuliana Desio che è una grande donna del teatro, ma ci saranno tantissimi altri incontri importanti. Ogni anno siamo in grado di proporre un cartellone sempre più ricco. Dal 10 novembre saremo già pronti per la finestra in cui lasciamo prelazione ai vecchi abbonati per continuare a fidelizzarli, perché sono già tantissime e di questo chiaramente ne siamo molto orgogliosi. Quindi questa finestra sarà aperta dal 10 al 17 novembre. Dal 17 novembre fino al 20 saranno in vendita gli abbonamenti per i nuovi abbonati e dal 20 in poi chiaramente rimarranno gli abbonamenti, speriamo pochi in quel caso, e i biglietti singoli per la nostra stagione teatrale che si preannuncia assolutamente molto ricca con dei nomi di assoluta qualità.